Quasi 154.000 clandestini sbarcati sul nostro territorio nel 2016. È record, è il boom di sbarchi in assoluto. Questo è il fallimento totale delle politiche di accoglienza del governo Renzi e dell'Unione Europea. L'immigrazione clandestina va contrastata, l'immigrazione regolare va gestita secondo delle regole. 166.000 sono i falsi profughi potenziali clandestini accolti nei nostri centri di accoglienza. La situazione è totalmente fuori controllo, i territori sono fuori controllo e l'immigrazione sta creando disagi e tensioni sociali tra i clandestini. Una guerra tra poveri determinata da questo governo filo-immigrazionista e filo-islamista. La Lega propone di contrastare l'immigrazione clandestina, di reintrodurre in maniera seria applicata il reato di immigrazione clandestina, distanziare soldi per i rimpatri. Bisogna rimettere quattrini sul fondo rimpatri affinché i rimpatri e le espulsioni vengano fatte in maniera effettiva. Bisogna ricostituire i CIE, centri di identificazione e espulsione. L'unico strumento utile e necessario per poter fare le espulsioni. Di fronte al fallimento del governo Renzi, di fronte al menefreghismo da parte dell'Unione Europea, bisogna tornare a difendere i confini, a difendere le frontiere, bisogna sospendere Schengen e bisogna difendere gli interessi nazionali. Questo governo spende ulteriori 600 milioni di euro nella legge di stabilità del 2016, oltre ai 4 miliardi già spesi l'anno scorso, per poter garantire vitto, alloggio, accoglienza, 35 euro al giorno, arricchendo e facendo sorgere speculazioni tra cooperative sociali e Caritas. È un sistema malato, è un sistema malsano, è il fallimento del governo Renzi, per questo motivo il 4 di dicembre il no alla riforma costituzionale, è il no a questo governo, per poter difendere i nostri confini e per poter dare accoglienza ai cittadini del nostro paese e non all'immigrazione.